Domenica 14 settembre, esaltazione della Santa Croce. Nel 257esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 108 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 47, tramonta le 19 e 24. La luna si leva alle 22 e 52, tramonta le 12 e 54. A mezzanotte il suono della campana a martello sveglia i cittadini veneziani immersi nel sonno. Era scoppiato un incendio nella cappella del Doge a Palazzo Ducale, per l'imprudenza del sacrestano che aveva lasciato acceso lo stoppino di una candela sull'altare. L'incendio si propaga rapidamente distruggendo l'appartamento del Doge e tutta l'ala adiacente del palazzo. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvole e rasserenamenti. In pianura probabilità di alcune foschie e qualche nebbia di notte e al primo mattino. Probabilità bassa di precipitazioni, impervalenza assenti, localmente è possibile qualche pioggia nella seconda parte della giornata. Temperature rispetto a ieri di notte saranno in aumento leggero o moderato, di giorno senza variazioni di rilievo.